buongiorno buona domenica buon pomeriggio ecco no ne approfitto per dare continuità alla video di stamattina perché vi faccio vedere mosini che appena scoperto che la mamma gli ha pulito tutti i suoi giochini e lui si è messo nel suo angolino vedete c'è il topino pulito la pecorella pulita il cuscino delle coccole pulito sei contento mosi cosa ti piace di più lui gli piace stare qui chi c'è qui che guarda un po scocciato il bullo ovviamente lui è qui lucio lui guarda controlla sempre la gattaiola hai visto hai visto mosè com'è felice dei suoi giochi puliti eh quale ti piace di più mosi quale ti piace di più il bastoncino ma quella è l'unica cosa che non ho lavato è un bastoncino la pecorella la pecorella è la sua preferita ma allora ancora odore anche se l'ho lavata la senti l'erba gatta i piedi i piedi sono sempre infangati i piedi e il topo com'è sto topo che l'avevo svuotato sei contentissimo guarda che angolino pulito soli tuoi zampini sono sporchi dovresti essere contentissimo insomma non c'è male pensavo peggio questi zampini però sono sempre io che te li pulisco perché non sono tranquilla che che lecchi quella sabbia dei muratori non sono tranquille questo guarda sto ingrugnito è ingrugnito perché è finito il polletto però quello che era rimasto non l'hai più voluto adesso puzza io l'ho buttato guardi guardi mosè sei invidioso quello è l'angolino di mosè tu di solito dormi qui ti piace dormire qui nel tappeto normale non nel tappetino è mosè che sta nel tappetino vero mosè parlo di te sai che hai tante zie tante dade che ti preferiscono che dicono che sei un vellutino che sei il loro preferito le saluti queste dade che ti preferiscono si vi sta salutando con dei baci con gli occhi perché i gatti quando mandano i baci si chiudono gli occhi e lucio dov'è è andato a mangiare per consolarsi io qua stendo i panni allora allora ma sei tanto contento sei tanto contento dei tuoi giochini puliti guarda come sei contento guarda come sei contento quello proprio il tuo angolino quel è il tuo parco giochi e quindi